Martedì 5 dicembre alle 11 nell'aula magna della scuola secondaria di primo grado Ettore Romagnoli di Gela sarà presente Chantal Borgonovo, autrice del libro Una vita in gioco, L'amore, il calcio, la SLA. L'evento si propone di essere più di una prestazione editoriale. Chantal Borgonovo dialogherà con Sandra Cicolone, dirigente scolastico della Romagnoli, e con Francesco Pira, sociologo della comunicazione e docente presso l'Università di Messina per trasmettere la sua storia agli alunni e agli ospiti della scuola. Chantal, moglie del calciatore Stefano Borgonovo, affetto da SLA, è venuto a mancare nel 2013, si renderà testimone di un percorso di vita in cui i valori chiave sono e restano l'amore e il calcio, nonostante l'insorgere della malattia. Nuova iniziativa di solidarietà del Leo Club del Golfo di Gela, preseduto da Giuseppe Giordano, che propone alla città a Perileo. L'iniziativa si trarrà domenica prossima, 3 dicembre, a partire dalle 19.30, presso il Laristo Pub Rossini e rientra nell'ambito del service internazionale Lions One Shot One Life, un vaccino, una vita, per contrastare la lotta al morbillo e finanziare campagne di vaccinazioni nei paesi in via di sviluppo. Per ogni drink acquistato si finanzierà un vaccino, un gesto che può salvare una vita. La Perileo verrà ripetuto altre volte nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. La menopausa, nuova realtà del terzo millennio, è il tema che sarà affrontato martedì 5 dicembre alle 17, nell'aula magna del liceo classico Eschilo di Gela. L'iniziativa è del Movimento Rosa per la rinascita di Gela. Interverranno il dirigente scolastico Giochino Pelitteri, il presidente del movimento Angela Brancacci e il Rosario Ferraro, dirigente medico ginecologico dell'ospedale Vittorio Emanuele. Non amiamo a parole ma con i fatti è il tema dell'anno sociale 2017-2018 dell'Associazione Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo di Gela. L'apertura ufficiale avverrà domani alle 18 con una celebrazione eucaristica preseduta dal Vescovo di Piazza Merina Monsignor Rosario Gisana nella parrocchia San Sebastiano in occasione dell'emissione canonica di Don Giorgio Cilindrello nella chiesa della quartiere Settefarine. E' prevista per domenica 10 dicembre alle 17.30 presso la Pinacoteca Comunale di Gela la conferenza pubblica dell'Associazione Culturale Siciliana Trinacria Sezione Ducezio. Il tema è la storia dei greci in Sicilia. Relazionerà il presidente Giuseppe Carnevale. 83esima stagione concertistica Gela si parte domenica 3 dicembre alle 19 nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli Roviano con il recital del pianista Davide Luciotto. L'iniziativa è della associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra preseduta dal maestro Crocifisso Ragona. Giovedì 7 dicembre alle 17.15 alle 21.15 Gianfranco Iannuzzo e Deborah Caprioglio porteranno in scena alla Faccia Vostra appuntamento al Teatro Comunale Eschilo. Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Telefoni 0933 91 18 92 345 58 80 580. E i prossimi 13 e 14 dicembre alle 21 all'antidoto di Macchitella a Gela la compagnia teatrale Artefatti porterà in scena forse meglio figlio di NN. Per informazioni telefoni 0933 82 27 07 338 71 43 293. Si trarà sabato 9 dicembre a Gela l'ottava edizione Corri con Papa Natale promossa dalla Green Sport Promotion di Giuseppe Veretti appuntamento in Piazza Umberto I dalle 9.30. Per informazioni ed iscrizioni telefonare al 347 57 99 271. 347 571.